Una mattinata decisamente diversa e interessante, quella trascorsa per gli studenti del liceo sportivo Mazzatinti di Gubbio che numerosi hanno partecipato all'incontro organizzato all'aula magna dell'istituto nella sede di Via dell'Arboreto con l'arbitro di calcio internazionale Marco Guida di Torre Annunziata. L'incontro dal titolo Gli Arbitri, visti da vicino tra il ruolo che rappresentano e il senso di responsabilità, era incentrato sull'importante figura dell'arbitro di calcio e nello sport in generale, ma anche sul principio del rispetto delle regole. E' ospite d'eccezione uno dei più giovani fischietti internazionali made in Italy, Guida appunto appena 36 anni, che ha portato la sua testimonianza. E' quello che mi ha spinto a un bel giorno di 20 anni fa ad entrare nella mia sezione degli arbitri. Il rispetto delle regole è una grande passione per questo sport ed è quello che proverò a trasmettere a questi ragazzi oggi. Noi lavoriamo così come calciatori da un punto di vista atletico e di preparazione tattica alla gara e quindi alle spalle della prestazione domenicale c'è sicuramente un frutto del lavoro fatto in settimana attraverso allenamenti, riunioni tecniche che facciamo puntualmente a Coverciano e soprattutto studiamo le squadre, i calciatori e eventuali problematiche che potrebbero crearsi in campo. Ad introdurre la giornata la dirigente scolastica Maria Marinangeli, mentre a moderare l'incontro c'era il giornalista Massimo Boccucci che sta affrontando, proprio con i ragazzi del liceo sportivo, un corso di comunicazione sportiva. Accanto all'arbitro Guida, parterre d'eccezione dal mondo arbitrale Ugubino ed Umbro con il guardialine internazionale Ugubino Matteo Passeri, che proprio con Guida ha diretto l'amichevole di Wembley pre-europeo tra Inghilterra e Portogallo, il presidente della sezione Angeletti di Gubbio, Andrea Pannacci e il presidente del comitato regionale Umbro degli arbitri, anche gli Ugubino, Luca Fiorucci. A portare il saluto dell'amministrazione comunale e l'assessore allo sport Damiani è un saluto apportato anche il consigliere regionale Smacchi, che da 30 anni fa parte della sezione arbitrale Ugubina. Gli studenti nel loro percorso di studio al liceo scientifico sportivo Ugubino non si occupano solo di sport, visto e praticato, ma anche dell'importanza delle norme e del diritto, affrontandole all'interno di una disciplina particolarissima che è il diritto ed economia dello sport. Anche su questi temi si è soffermato Guida, che ha voluto evidenziare, come anche ad altissimi livelli, l'attività resta una passione da affrontare e vivere cercando di evitare le enorme pressioni che un mondo sempre più complesso come quello calcistico impone. Le guarda male Pacelle? Ma in realtà mi fermo a quella che è la valutazione del mio organo tecnico, poi il resto fa parte del gioco.